Amici dell'Orizzonte degli Eventi, buonasera, bentornati. Bentornato anche a Mario Iannacone che questa sera ricomincia a analizzare quei luoghi di potere, quei luoghi di sottile influenza sulla cultura ma anche sulla politica che hanno animato il Novecento. Parliamo dell'ordine della Golden Dawn, ovvero dell'alba dorata, un ordine magico che ha avuto tra i suoi adepti anche un grande poeta come William Butler Yeats e l'arcinoto Aleister Crowley. Quindi parliamo di questo ordine, di come alcune persone sono convinte che con la magia si possa modificare il corso degli eventi, modificare l'atteggiamento delle persone, insomma compiere veri e propri atti di magia operativa. Bene, quindi vi lascio a questo interessantissimo argomento e vi auguro buon ascolto. Io sono Barbara Tampieri e questo è l'Orizzonte degli Eventi. Ci vediamo la prossima settimana. Buon ascolto di nuovo. Cari amici dell'Orizzonte degli Eventi, buonasera, bentornati e bentornato a Mario Iannacone. Ciao Mario. Ciao a tutti, saluto anche tutti gli ascoltatori. Certo, che ti aspettano sempre con tanta voglia di ascoltarti. Allora, con Mario abbiamo in programma stasera di parlare di un centro di radiazione dell'ennesimo della rivoluzione culturale, di quei gruppi di potere dove si sono studiate tante soluzioni per il futuro, di cui stiamo vedendo i frutti purtroppo. E parliamo della Golden Dawn. Torniamo in Inghilterra dove sembra che tutto gemmi dalle membra di Albione. Vediamo la storia di questa, come la possiamo definire? Ma è un, loro si definivano un ordine di magia cerimoniale, quindi una società di magia cerimoniale, di magia. Allora, Golden Dawn ne parliamo perché innanzitutto fu una società fondata a fine ottocento, 1887 a Londra, che attirò personaggi che nella letteratura, nella poesia, nella cultura del tempo avevano un grande peso e ci sono anche dei premi Nobel come Yates. La Golden Dawn è una società di magia cerimoniale, un ordine di magia cerimoniale durato tra l'87 e il 1901 praticamente, la cui importanza sta nel fatto che ha raccolto delle tradizioni magiche precedenti, le ha raccolte, le ha riscritte e le ha rilanciate nel novecento, con una capacità anche teatrale di affascinare la gente del tempo a Parigi e a Londra, che ha, le ha concesso poi ecco di incidere molto su tutto quello che è venuto dopo. Una delle società eredi di questa Golden Dawn è stata la OTO, Lordo Templis Orientis, perché, come vedremo, uno dei personaggi che aderisce alla fine dell'ottocento alla Golden Dawn è Alester Crowley, quindi quello che è fondato, probabilmente una delle società la cui influenza diretta e indiretta sul mondo contemporaneo, assieme alle varie massonerie, è più forte. Allora, facciamo una piccola premessa. Il ruolo più importante della Golden Dawn sta nel fatto che ha recuperato miti e deita egizie, quindi si è inserita in quella voga, in quella moda dell'Egitto, che è stata così importante fra la fine dell'Ottocento e i primi 20-30 anni del Novecento e che in realtà continuava da molti decenni, se pensiamo che Napoleone Bonaparte non a caso va, sappiamo, al Cairo. Questa società si sviluppa in particolare a Londra. A Londra vengono fondati diversi, praticamente il più importante, il primo tempio, perché così si chiamavano tempio, quello era dedicato ad Iside. Un altro tempio importante viene fondato a Parigi, poi altri in Germania e in varie città dell'Inghilterra. Resta comunque un movimento essenzialmente inglese, soltanto dopo, con le società che sono derivate da queste, i suoi riti avranno un'influenza, possiamo dire, mondiale. Allora, diamo una definizione tecnica per capire un pochino di che cosa parliamo. Stiamo parlando di una società di magia. Cos'è la magia? La magia sono delle operazioni che prevedono un atteggiamento innanzitutto di tipo gnostico, questa è una definizione tecnica e che affida l'elevazione spirituale alla sapienza e non alla fede, quindi alla sofia e non alla pistis, che rifiuta per definizione le religioni del libro, particolarmente il cristianesimo cattolico, il cristianesimo ottodosso, perché in quel caso la mediazione per la salvezza è data dalla fede pistis nella Gesù Cristo incarnato, che è quindi qualcosa che osta alla magia completamente. Per questi signori che adesso nomineremo, che fondano la Golden Dawn, l'elevazione viene conquistata attraverso il tirocinio, attraverso la conoscenza, cioè l'agnosis, e non è l'accettazione della grazia di un dono divino, oppure di comportamenti morali, un codice di comportamento. Quindi diciamo che gli adepti di queste società di magia cerimoniale si abituano a pensare e a volere in modo autonomo e a non conformarsi ad altro che alle regole della loro, diciamo, società, se queste consentono loro di avanzare, diciamo, sul cammino della conoscenza. Questo ha dei portati importanti in realtà, perché elimina gradatamente il senso del limite, ecco poi su questo magari torneremo. È magia cerimoniale, dicevo, perché magia cerimoniale? Perché nella magia cerimoniale, allora esistono diversi tipi di magia, no? Poi cosa sia la magia si è tanto discusso, ma così come classificazione che è accettata direi ormai internazionalmente anche dagli specialisti storici di queste materie, la magia cerimoniale è quella per la quale ciò che è importante per proseguire nel cammino dell'agnosi, nel cammino della conoscenza, sono dei testi che contengono istruzioni magiche, che contengono sigilli, l'uso di profumi, l'uso di azioni che devono ottenere un effetto. Quindi questo è fondamentalmente la magia cerimoniale. Non c'è bisogno di essere degli iniziati, ma è importante avere i testi giusti. Quindi è la magia operativa. È la magia operativa. La magia iniziatica invece è quella che prevede una trasmissione dal maestro discepolo, no? Quindi in questi casi si ricerca una successione legittima con l'imposizione delle mani o in altri modi. E di questa, diciamo, della magia iniziatica in senso proprio fanno parte, poi ecco, quattro tipi di ordini, che sono quelli paramassonici, la massoneria anche, gli ordini rosicruciani, rosa cruciani, gli ordini martinisti e le cosiddette chiese gnostiche. E poi ci sono altri tipi, diciamo, di magia, wicca, eccetera, che adesso non ci interessano. E poi il discorso del mago non è che uno dice domani faccio, mi metto a fare il mago. Il mago è un predestinato. Il mago è un predestinato che poi viene adottato dal maestro che lo addestra, no? In fondo Harry Potter è abbastanza rigoroso in questo, no? Perché Harry Potter è un predestinato, ha addirittura un segno sulla fronte e poi va, appunto, c'è questa scuola, però il principio è quello, ecco, poi c'è il cattivo maestro, il bravo maestro. Hai fatto una citazione, un collegamento giustissimo, perché come vedremo la Golden Dawn crea dei veri e propri college, fondamentalmente, nei quali si studia la magia, cioè molto importante è lo studio. Loro davano moltissima importanza allo studio, allo studio dei testi, alla mandare a memoria segni, movimenti, eccetera, eccetera, e quindi creavano proprio delle classi con degli esami, esami scritti, esami pratici, quindi siamo proprio a Dog Wars. Assolutamente. Diciamo che tutto il materiale che riguarda la Golden Dawn, anche per questo è famoso, è stato pubblicato nel corso del, diciamo, del Novecento, in Italia è stato tradotto dalle Mediterranee, da Isail Regardi, che è stato un adepto della Golden Dawn, ma soprattutto è stato il segretario di Alester Crowley. Quindi conosciamo molto bene questa società. Che nasce in questo modo? Allora, nasce perché a un certo giorno, innanzitutto, nel, tra 1865 e 1867, un signore che si chiamava Little, Wentworth Little, fonda in Inghilterra una società rosa crociana che deriva da una famosa società rosa crociana tedesca che deriverebbe a sua volta da, diciamo, dai rosa croce, quelli degli inizi del Seicento, no? Da fama fraternitatis, eccetera, che è la società della rosa croce d'oro. Allora, fonda questa società che si chiamerà poi Societas Rosa Cruciana o Rosi Cruciana in Anglia, dove, diciamo, la condizione per entrare a farne parte è di essere dei maestri massoni, innanzitutto, e quindi col grado di maestro, ed avere anche una fede cristiana trinitaria, che poi, diciamo, che fondamentalmente significa anglicana in Inghilterra. Ora, tre di questi signori che sono parte della Societas Rosa Cruciana in Anglia, che sono massoni e che sono tutti e tre anche teosofi, quindi hanno, c'è questa impollinazione incrociata, no? È veramente incredibile, nel senso che poi trovi le stesse persone, quelli che sembrano apparentemente delle società diverse, lo sono come struttura, però le persone, soprattutto ai vertici, si incrociano. Tre di questi, che sono uno che si chiamava William Woodman, che era un maestro massone, che aveva un, diciamo, scriveva su una rivista Rosa Cruciana in Inghilterra, aveva raggiunto gradi elevati e che, appunto, aveva questi interessi. Un altro che si chiamava Westcott, Wynne Westcott, questo è molto importante perché era, è un coroner, era un medico della Londra, diciamo, upper class, faceva parte di una loggia importantissima storicamente che è la Quattro Coronati, che è una loggia di ricerca, quindi lui faceva delle ricerche storiche sulle origini della massoneria, su argomenti annessi come la Kabbalah, che conosceva molto bene, quindi. E un terzo che si chiamava Samuel Liddell, questi tre signori a un certo punto decidono di restare nella società Rosa Cruciana in Anglia, restare massoni, restare teosofi poi fondamentalmente anche, e fondare una ulteriore società o ordine, come lo chiamavano loro, che chiameranno Golden Dawn. Poi vedremo perché si chiama Golden Dawn, almeno ci sono delle interpretazioni. C'è questo Woodman, c'è questo Westcott e c'è questo Liddell, che era un personaggio diciamo pittoresco, o comunque piuttosto bizzarro, che studiava moltissimo, un'autodidatta, che passava le sue giornate, questo è noto, alla British Library, e studiava soprattutto i testi, diciamo, le collezioni egizie, no? Perché c'era molto questa, e i testi dell'occultismo di John Dee, quindi della magia elisavettiana. Questo signore a un certo punto cambia il suo nome e da Samuel Liddell, umile personaggio, comunque diciamo dotato nella scrittura, eccetera, pretende a un certo punto di discendere da un MacGregor, che era un clan scozzese, e quindi si fa chiamare Samuel Liddell, MacGregor Matters. Ecco, questo signore, che a un certo punto viene ben conosciuto nelle cerchie dell'occultismo, dell'esoterismo, eccetera, fonda appunto, insieme agli altri due, questa società, sposa la sorella di Bergson, Moina Bergson, e scrive, o riscrive, o comunque inventa, ma prendendo da testi precedenti, rituali che sono considerati rituali di evocazioni, paramenti, disegni a paramenti, che sono considerati affascinanti, no? Dalla, come dire, dall'intelligenza del tempo. E in questo modo si ritiene che lui sia uno dei fondatori della magia cerimoniale moderna, quindi questi paramenti, questi riti che si rifacevano a delle Eusi, che si rifacevano in particolare ai riti di Iside e Osiride. Infatti noi lo troviamo nelle fotografie, se facciamo delle ricerche molto semplici anche su Google, vestito come Horus e sua moglie, è vestita come, spesso come Iside, anzi lei diventerà famosa come Iside. E c'è poi tutta una costruzione, eh, nella fondazione di questa società, perché innanzitutto, diciamo, il primo motore è questo Westcott, cioè il corner, che afferma a un certo punto di aver ricevuto un manoscritto cifrato, no? Cipher Manuscript è conosciuto, no? Si trovano le pagine se si ricerca, che conteneva l'abbozzo e i rituali e le indicazioni per intracciare in Germania una certa Anna Sprengler, una misteriosa Anna Sprengler, una contessa, che sarebbe stata figlia di Ludovico, di Ludwig I di Baviera, la quale a sua volta sarebbe stata esponente di un identico ordine rosacrociano, appunto l'ordine della Rosa Croce d'Oro, di cui ho parlato prima, in contatto anche con i superiori sconosciuti, perché i superiori sconosciuti non mancano mai, no? Ci sono nella società della Blavats, che magari si chiamano in un modo, in un altro nome, ma comunque ci sono sempre questi padri nobili, questi superiori che danno il permesso di fare certe cose. Questa Sprengler, di cui però non si troverà mai traccia, avrebbe dato appunto l'incarico a Westcott e a Lidl di scrivere questi rituali di cui stavo parlando prima. E lui fa benissimo questo lavoro, no? Perché aveva un... erano un po' artisti questi, no? Cioè ecco, infatti la Golden Dawn ha una grande importanza, ha un grande successo, diciamo, soprattutto per lo splendore dei suoi rituali, no? Che qui vesti d'oro, luci, profumi e diciamo il tempio di Isis, quello centrale, è una sorta anche di teatro. Ecco, entra subito Mina Bexon, che diventa... cambia il suo nome e lo cambia perché suoni irlandese, perché suoni gaelico, Moina Matters si fa chiamare, e vengono soprattutto ammesse varie donne, no? Questa, ecco, è una caratteristica della Golden Dawn, il fatto di avere molte donne che poi spesso sono attrici. Adesso le nomineremo. Una è Florence Farr, che era l'attrice preferita di John Benashaw, che abbiamo citato per la Fabian Society, e un'altra era Annie Horniman, che è stata una delle più importanti impresari, ecco, teatrali di quel periodo, alla prima metà del Novecento. Ecco, quindi, questo McGregor, chiamiamolo così adesso, Matters, che però era Samuel Liddell, prende testi della Kabbalah, prende testi egizi, Iside, Osiride, prende la magia del Rinascimento, John Dee in particolare, prende tutta la leggenda appunto rosa crociana e praticamente aiuta a disporre questo tempio, che è in una zona abbastanza centrale di Londra, dove viene anche costruita una sorta di tomba di Christian Rosencrantz, no? Quindi, questi sono una società di magia cerimoniale, ma il personaggio di Christian Rosencrantz, che abbiamo visto l'ultima volta nelle Georgia Guidestones, è molto importante, cioè è al centro, no? Di questa loro cerimonialità. Ti faccio una domanda che mi viene così adesso. Si sa che questo tipo di magia operativa deve essere, come dire, non si può maneggiare tanto alla leggera, nel senso che sono specialmente certi testi, se andiamo a cercare John Dee, eccetera, quindi qualcosa di abbastanza oscuro. Quello che vorrei sapere, erano persone che sapevano quello che facevano? Perché si dice che non bisogna giocare con la magia, sapevano quello che facevano, erano maghi, nel senso che sapevano padroneggiare questa arte, oppure erano degli annoiati VIP che così si trovavano e facevano un po' come succedeva con lo spiritismo, no? Dove si trovavano la sera e facevano le sedute spiritiche. Allora, qui, per rispondere a questa domanda, in effetti bisogna andare ai vari personaggi che hanno fatto parte della Golden Dawn, perché nelle biografie di alcuni di loro troviamo opinioni diverse. Ad esempio, prendiamo il caso di Yeats, no? Il poeta Yeats. Per lui l'esperienza della... lui fece parte della Golden Dawn quasi subito e questa appartenenza per la sua vita di poeta è stata molto importante. Lui credeva all'efficacia di questi, diciamo, di questi riti, perché poi ci sono... Ci sono molte... io ho un po' di biografie, no? Di Yeats, perché mi sono incuriosito, sono andato a vedere, questo per esempio sono i Fantasmi di Yeats, è un libro che parla proprio anche di queste sue esperienze e questa è una biografia, diciamo, più tradizionale. La sua poesia è molto influenzata da questi temi. Anche se poi non si capisce bene, perché per esempio lui ha fatto... lui si era innamorato perdutamente di un membro della Golden Dawn, che era Maud Gorn, che era un attivista della causa irlandese, la moglie di John McBride, la madre di Sean McBride, uno dei fondatori di Amnesty International, un personaggio importantissimo, Nobel per la pace, uno di quei personaggi che noi consideriamo adesso parte dell'elite. E Yeats, cioè lui voleva fare innamorare questa donna, ma non c'è mai riuscito, cioè proprio non c'è stato verso. Per cui diciamo che in quel caso la magia d'amore, nel caso di John McBride, lui stesso l'ha detto, non ha funzionato. Yeats vivrà appunto questa storia d'amore infelice con Maud Gorn e dobbiamo considerare che la Golden Dawn fu collegata in vari modi al movimento indipendentista irlandese, che era un movimento di sinistra diremmo noi oggi. Concludo sul figlio di Maud Gorn. Questa Maud Gorn, molto interessante questa vicenda fra appunto Yeats, perdutamente innamorato di questa Maud Gorn, i due formano una coppia magica, ma non una coppia, e lui impazzisce dietro a questa donna, che però si sposa con un'altra persona, un certo John McBride, che fu uno dei martiri cosiddetti della Pasqua del 1916, cioè fu giustiziato per aver congiurato contro l'Inghilterra, contro la Gran Bretagna, per la causa irlandese. Con questo John McBride, Maud Gorn ha due figli, una si chiamava Iseult, e vabbè avrà una vita, non avrà diciamo dei ruoli molto importanti. Il figlio maschio, Sean McBride, diventa un personaggio importantissimo, lo dicevo prima, è uno dei fondatori del Consiglio d'Europa, è uno dei fondatori di Amnesty International, è uno giurista fondatore praticamente dell'Unione Europea, dell'Oxley, e di molte altre cose. Allora, vediamo come in realtà questa gente operava ad alto livello. è peraltro premio Nobel del 1974 e io ti potrei fare gli esempi di vari altri personaggi che aderirono alla Golden Dawn e che i cui figli, i cui parenti sono andati ai vertici soprattutto delle società internazionali e sovranazionali. Non gli AIDS, ma altri sicuramente sì. Cioè sono sempre comunque delle formazioni d'elite queste. quindi magia cerimoniale e politica. Credeva molto alla Golden Dawn, un altro personaggio che è stato il presidente della Society for Psychical Research, cioè quella che studiava i fantasmi, che era William Crook. Questo era uno scienziato, era un chimico, è stato una medaglia David, quindi uno scienziato premiato dalla Royal Society per i suoi meriti scientifici e quindi ci sono anche degli scienziati. Nel suo caso le opinioni sono miste, no? Dice, ma insomma, comunque era bello, era affascinante, eccetera. uno che ha trattato diciamo i membri della Golden Dawn come dei ciarlatani, più o meno insomma, comunque ha avuto molto da dire, è stato Arthur Macken, che è stato il personaggio che mi fece conoscere tanti anni fa insomma questa storia, perché io leggevo questi scrittori del fantastico inglese, sono importanti, Arthur Macken è un importante scrittore del fantastico, e poi vedevo che facevano tutti parte di questa Golden Dawn, quindi volevo cercare di capire in che cosa le aveva influenzati. Questo, anche se ha fatto parte di due logge diverse, di tempi diversi, ha sempre detto, ma insomma no, beh ecco, non è mai stato del tutto convinto. Altri invece, come Alan Bennett, altro membro della Golden Dawn, buddista, personaggio vicino a Croce, lei, beh no, lui invece credeva assolutamente alla efficacia di questi riti. Un'altra era Mabel Collins, quella che ha scritto un testo che si chiamava che si chiama La luce sul sentiero, considerato un testo, lei era una teosofa, anche lei, e via così, cioè soprattutto la Golden Dawn ha avuto un'influenza perché hanno avuto un ruolo importante all'interno di essa delle donne, in particolare le già citate Moina Bergson, Maud Ghosn, Florence Farr, l'attrice, e Annie Ordemann, la impresaria. E poi c'era anche la moglie di, per esempio, di Oscar Wilde, Constance Mary, che erano tutte donne, diciamo, emancipate, erano tutte new women, come si diceva al tempo, quindi che davano più importanza alla loro realizzazione professionale, piuttosto che per esempio alla maternità o al matrimonio, e poi ecco, i lavori, insomma, di magici, no, erano fatti in coppia, ma non nel senso che questi si davano alle debosce, o facessero orge, eccetera, no, anzi, sono piuttosto, la cosa, la caratteristica della Golden Dawn è che è importante la presenza dell'elemento maschile e dell'elemento femminile per creare anche una, come dire, una tensione che loro consideravano una tensione magica, eccetera, ma questo per quanto ne sappiamo non implicava magia sessuale, no, anche se la Golden Dawn ha avuto un ordine interno del quale in realtà si sa poco, non si sa quanta gente ha partecipato. Allora, farei due piccoli approfondimenti, innanzitutto il nome, come mai si chiamava Golden Dawn, questa società che ha operato tra l'87 e il 1901, vedremo anche come finisce e che cosa faceva poi nel frattempo, perché finisce in modo più o meno drammatico, un duello fra Yates e Crowley. Allora, Alba Dorata, no, e quindi loro usavano questo termine secondo, cioè, dando alle parole un significato cabalistico, cioè, allora, bisognerebbe leggere la parola latina aurum, oro, significa l'oro alchemico, l'oro ha questo significato, era Alba Doro o Dorata per questo motivo. Poi, in latino sempre il verbo oriri significa sorgere, sorgere di cosa? Dell'anima, sorge, quindi, della conoscenza, eccetera, eccetera. Inoltre, Aurora, Aurora, richiamava foneticamente il dio egizio Horus, che è importantissimo nei loro viti, che è un simbolo di rinascita, è un simbolo di rinnovamento, un simbolo di rinnovamento individuale, un simbolo di rinnovamento collettivo. quindi, anche questa società cosa mirava? A risorgere del mondo intero in una nuova era, una nuova era che doveva venire, cioè l'Alba Dorata di una nuova era. Cioè, lo discorso dopo lo faremo forse del Leone e di Crowley, no? Di Horus, esatto, e tutto questo discorso verrà infatti ripreso in chiave ancora più apocalittica, direi, proprio da Crowley e Iside, Osiride, l'Egitto sono importantissimi nei riti e nel pensiero di questi personaggi e il Cairo, il Cairo dove, dove poi infatti uno degli adepti uscito dalla Golden Dawn o comunque c'era stata una scissione a quel tempo nel 1904, al Cairo avrà la famosa visione di Aiwas. Ad ogni modo, il Cairo è importantissimo ci sono dei legami fra Parigi, Londra e l'Egitto e il Cairo, anche Berlino, le tre città nelle quali ci sono i più importanti musei egizi. Qui, vabbè, si aprirebbe tutto un discorso sull'importanza dell'Egitto. Noi sappiamo che c'è stata questa traslazione anche qualche tempo fa perché probabilmente è collegato, questa è una storia più vecchia, più antica, però si preparavano quello che stiamo vedendo, cioè il nuovo Eone di Horus. Allora, va bene, questa è un po' la spiegazione. Poi, ecco, come dicevo, una novità molto importante di questa società è la compresenza di uomini di uomini e donne che si assumevano un ruolo paritario che lavoravano insieme come uguali nelle cerimonie magiche, anziché dovevano essere fatte con uomini e donne, no? Per bilanciare il maschile e il femminile, loro dicevano il maschile e il femminile è tra gli uomini e donne che fanno parte della società, ma anche all'interno di ogni uomo, all'interno di ogni donna, c'è una parte maschile e una parte femminile, insomma, cose che poi abbiamo sentito sono state sviluppate in un altro modo. E tipo da Jung? Da Jung e poi siamo arrivati fino al gender, però, uno direbbe contro iniziazione, non lo so, insomma, in realtà io vedo una continuità fra tutto questo, però va bene, all'epoca era così, siamo comunque alla fine dell'Ottocento, agli inizi del Novecento. Ecco, la Golden Dawn ha un grande successo anche a Parigi, allora ha un grande successo a Parigi perché viene fondato anche lì un tempio di Londra, resta quello più importante, quello più maestroso, che è organizzato come più o meno un tempio massonico perché ci sono le due colonne, c'è il pavimento a scacchi, però poi ci sono molte altre cose diverse e i paramenti sono egizi. Allora, nel 1899 McGregor Matters e la moglie Moina vanno a Parigi e fondano un tempio di Iside che ha un grandissimo successo. Lei appare in questi rituali splendidi per il tempo, proprio con delle quinte teatrali, no? C'era proprio una teatralità molto importante, c'erano non solo i paramenti ma proprio dei fondali di carta pesta e noi abbiamo le foto di lei, bella insomma, bella donna che appariva come Iside, che sorgeva come Iside, lui un po' più bruttino insomma, ma faceva Horus e il successo su questo on stage proprio, cioè sulla scena è grandissimo, tanto che si forma un vero e proprio movimento di Iside a Parigi che preoccupa le autorità, dicono ma come cominciamo a torniamo al paganesimo eccetera eccetera e lei era molto consapevole di queste cose, diceva sì bisogna superare tutto quello che è stato fino adesso, tornare all'Egitto, veniva intervistata dalla stampa francese ed era molto molto compresa nel suo ruolo. Dopodiché che cosa succede? Allora in questi anni riti, successo, per vari personaggi si conoscono fra di loro, gli AIDS, poi entra questo personaggio molto scandaloso per come si comporta, per quello che dice che è Aleister Crowley il quale crea scissione, crea nervosismo perché una parte degli adepti va a Parigi come vi ho detto i due dei fondatori vanno a Parigi, gli altri restano a Londra e a Londra succedono varie cose, si presentano dei vari personaggi che vengono iniziati dentro la Golden Dawn che dicono di essere, una dice di essere la reincarnazione della Blavatsky e soprattutto Crowley e Matters in un primo momento litigano perché a un certo punto per esempio Matters non aveva mai soldi e le iscrizioni di questa società portavano qualche soldo quindi si creano anche dei problemi di questo tipo molto poco magici. A un certo punto quello che succede alla fine dell'Ottocento dei primi 1900-1901 è che si scinde in due fazioni con accuse reciproche il manoscritto non esisteva l'ha inventato no non l'ha inventato esisteva davvero diciamo accuse di questo genere e soprattutto Yates e Crowley vengono alle mani perché Crowley si presenta nella sede di Isis Urania ecco si chiamava prima non mi ricordavo il nome intero Isis Urania vestito da antico scozzese se non sbaglio e Yates lo butta fuori poi chiamano la polizia e insomma diciamo che dopo un duello magico ecco quindi Yates credeva a queste cose fra Crowley e Yates la società fondamentalmente finisce nel senso che c'è sono delle continuità ci sono delle altre società Crowley fonda una società che si chiama Astrum Argentinum che prende l'eredità della Golden Dawn poi si crea un altro ordin ermetico della Golden Dawn poi Crowley farà quello che sappiamo e come dispetto pubblica sulla sua rivista l'equinozio di Equinox tutti i riti diciamo tutti i rituali della Golden Dawn che erano tenuti molto segreti c'è un'importanza della Golden Dawn che è storica e che è legata al fatto che crea un corpus di testi di magia cerimoniale che vengono appunto da Kabbalah da John Dee eccetera e di rilancio nel novecento come dicevo prima c'è il fenomeno diciamo culturale perché scrittori come Arthur Macken come Gernon Blackwood come Yeats premio Nobel e altri vengono attirati nella diciamo e altri ancora Balwer Litton ad esempio quello che ha scritto gli ultimi giorni il Pompei se non sbaglio quindi personaggi all'epoca di insomma molto 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 letti e c'è anche la questione direi di costume sull'importanza data a queste sacerdotesse loro si definivano così c'è infatti un libro molto bello adesso lo stavo cercando di capire dove lo ah eccolo qua un libro che lessi un po' di anni fa che si chiama Le donne della Golden Dawn ribelli e sacerdotesse di Mary Greer che è molto bello perché ricostruisce la Londra di fine ottocento e il ruolo di queste donne va bene c'è un panchà un po' femminista ma è molto interessante perché riesce a ricostruire un pochino l'ambiente un'altra che fece parte della Golden Dawn molto molto importante era Dion Fortune anche questa poi insomma che ha avuto un ruolo eccetera 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 molto molto importante questa magia questi rituali che cosa erano finalizzati cioè era qualcosa di personale per cui un gruppo di persone perseguiva determinati scopi oppure c'era anche un'operatività più verso l'esterno più più evocativa diciamo allora è infatti giustissimo affrontare questo questo tema allora diciamo che principalmente il loro scopo era quello di ottenere delle conoscenze personali no quindi per esempio loro avevano tre ordini li chiamavano il primo ordine il secondo ordine e il terzo ordine e questi ordini il primo ne ha quattro il secondo ne ha tre e il terzo ne ha tre questi ordini dovevano portare l'adepto piano piano a innanzitutto nella prima fase usare le energie che corrispondono alla forza all'immaginazione usavano molto l'immaginazione all'intelletto all'emozione e facevano quindi studiavano molto imparavano a padroneggiare l'immaginazione l'immaginazione attiva quella di di flood quella di cui parla la Yates quella dell'Inghilterra dell'Inghilterra elisabettiana ma che era anche della la stessa per esempio usata da Ignazio di Loyola nei suoi esercizi spirituali nel secondo ordine dove si diventava adepti veri e propri si imparava a studiare la divinazione si usavano i tarocchi si consacravano oggetti magici e amuleti per ottenere degli scopi a questo punto cioè nella prima parte si cercava di creare una padronanza di sé nella seconda parte ci si proiettava più verso l'esterno quindi non so teurgia evocazione di spiriti facevano proprio anche i tavolini dovevano studiare moltissimo memorizzare interi rituali sequenze si addestrarsi a gesti usare paramenti usare oggetti e il loro studio era pesantissimo questo ce lo dice nelle sue lettere Yeats o con molto più fastidio Marken e tanto che non sappiamo se o chi sia arrivato agli ultimi gradi il decimo primo decimo uno che è quello di Ipsissimus dove in teoria si poteva cioè si diventava molto potenti quindi all'inizio dovevano diventare loro padroni di sé stessi in un secondo momento ovviamente se c'è evocazione teurgia richiamo di angeli si invocavano degli angeli che dovevano proteggere la società ma anche ottenere altri effetti quindi per esempio Yeats era molto interessato alla causa irlandese e ha operato magicamente per questo quindi sì c'era anche questo scopo anzi si può dire di più esisteva un ordine interno su cui si sa pochissimo che era la rosa rube e taure crucis chiamata così l'ordine della rosa rossa dove doveva si doveva studiare la cristalloscopia bisognava mettersi in contatto con i capi segreti eccetera ma non si sa bene in realtà cosa fosse questo ordine segreto della rosa rossa non lo sappiamo è possibile certo è possibile che in questo ordine interno si facessero altre cose quindi si usasse il sangue si usasse di fatto sono gli anni ricordiamo dove in perversa Jack the Ripper Jack lo squartatore che come tipo di esposizione delle vittime eccetera ha un carattere prettamente rituale assolutamente ha un carattere rituale per cui effettivamente questo è possibile poi ci sono molti libri molta gente che studia queste cose non si è mai arrivati ancora non si è arrivati insomma ad una anche il coinvolgimento della Golden Dawn perché erano segreti cioè effettivamente a un certo punto certi certe società come queste nei loro ordini interni soprattutto comunicavano oralmente e allora lì non ci sono documenti all'esterno sembravano dei così sono gli esteti interessati alla magia ma anche al rinnovamento del mondo cioè questo famoso non ci fosse effettivamente una una versione per per l'esterno che poteva anche permettersi di giocare con le divinità egizie che è una cosa che anche non è molto auspicabile nel senso che qualsiasi divinità anche anche appartenente al passato appartenente a qualsiasi cultura non deve mai essere citata in vano tirata in ballo in cose che non competono alle cose sacre no? assolutamente quindi rappresentare le due massime divinità egizie su un palcoscenico sembra effettivamente un po' azzardato no? per chi crede nel nel fatto che gli dei debbano essere rispettati comunque anche venere giove o antico romane quindi può darsi che ci fosse questa faccia esteriore diciamo esoterica fatta per attirare sostanzialmente personalità o anche pubblico e anche abituare introdurre gli argomenti presso il pubblico per esempio far diventare popolare la magia e possiamo dire che prima abbiamo citato Harry Potter di fatto ai nostri giorni la magia è diventata estremamente popolare addirittura presso i bambini più piccoli certo quindi ecco a parte quello poi che non ci fosse effettivamente un cerchio interno dove si perseguivano cose molto più serie molto più ristrette e nascoste sicuramente io penso proprio di sì proprio l'aspetto esoterico e se no non si spiega perché esce da questo ambiente perché da questo ambiente esce da qui si forma questo Crowley dal cui influsso è uno dei più importanti del novecento io credo che Crowley e Genon sì sì poi certo con le loro diversità i quali entrambi vadiamo bene hanno vanno a convergere al Cairo perché uno ha la sua rivelazione al Cairo e l'altro ci va a vivere proprio perché da lì c'era una comunità vastissima di persone io non so posso citare una che magari è poco conosciuta che è Valentin de Sun Point che invece è molto importante in quegli ambienti che vive al Cairo e conosce Genon Crowley si veste da Osiride McGregor Matters si veste da Osiride Horus e tutto questo cosa doveva portare portava alla idea che fosse necessario assolutamente superare Leone cristiano perché Leone cristiano imponeva dei limiti imponeva dei limiti nella morale imponeva dei limiti in tutti gli ambiti della vita io credo che imponesse dei limiti fosse anche importante il fatto che imponesse dei limiti nella scienza infatti il convergere di tanti scienziati anche matematici in questi gruppi chimici e molti altri è singolare molto singolare eppure 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 così era così allora ed è così oggi quindi noi allora apparentemente questa era abbastanza innocua diciamo erano così dei personaggi che amavano o credevano alcuni sì alcuni no poi ecco come scopriremo dai loro scritti però ecco quello che loro hanno creato questo corpus di riti di idee poi è stato trasmesso da in modo sempre più pesante in modo sempre più convinto in modo sempre più apocalittico cioè all'interno di contesti apocalittici e ora ce lo troviamo dentro i vertici un po' del potere io ascoltavo l'altro giorno le interviste fatte a Carlo Palermo l'ex magistrato nella quale questo giudice mostrando dei documenti lui mostra dei documenti e lui parla di Rosa Croce ma sono l'OTO lui ha trovato nelle sue inchiese dei documenti molto importanti che parlano di trasformazioni cioè quelle cose che sono considerate complottiste tra virgolette e però lui mostra dei documenti e sono i simboli che troviamo sono quelli che derivano dalla Golden Dawn dall'OTO eccetera e lui li ha trovati all'interno di indagini che ha fatto su logge molto dice potenti e importanti cioè voglio dire queste cose che risalgono più di cento anni fa probabilmente sono continuate adesso non esco di argomento ma ho trovato interessanti queste 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 conversazioni comunque restiamo alla Golden Dawn come fenomeno culturale fin de siècle fra Londra e Parigi e un po' Berlino anche ha molto successo in Germania e soprattutto in Inghilterra ecco e ricordiamoci qui c'è una confluenza molto interessante molto importante molto inquietante anche tra massoneria massoneria degli alti gradi fra teosofia e appunto magia cerimoniale teosofia che peraltro dobbiamo dire noi ci siamo fermati quando abbiamo fatto il nostro la nostra conversazione sulla teosofia all'aspetto così più culturale però dobbiamo dire che ad esempio in nazioni come l'Italia la teosofia si fonde ad esempio alla cosiddetta tradizione pitagorica dei maghi pitagori Arturo Reghini cioè della cosiddetta magia usiridea quindi tutti questi gruppi a un certo punto operano operano nella realtà operano nella politica e forse anche ad alti livelli e normalmente si associa ecco giusto per fare perché forse l'argomento è vasto per visto che siamo poi anche in chiusura però si associa naturalmente crole al satanismo sì è una semplificazione oppure effettivamente questo è un argomento che naturalmente richiederebbe un approfondimento a sé però è qualcosa di effettivamente avvicinabile ad ambienti che si rifanno a culti satanici o comunque allora tecnicamente l'esperto di storia dei nuovi movimenti religiosi eccetera direbbe no perché in realtà ecco vabbè in parte che lui si definiva un anticristo 666 eccetera eccetera poi diceva che però questi erano simboli solari eccetera dal punto di vista spirituale diciamo secondo me l'accusa è fondata perché questo nuovo eone che lui predicava la venuta che cos'è insomma all'interno di una narrazione cristiana e una concezione cristiana del mondo è diciamo quello degli intimi tempi dell'apocalisse della rivelazione eccetera in cui anche satana ha un ruolo dopodiché lui si definiva a volte panteista a volte ateo quindi giocava moltissimo con queste cose quindi loro possono benissimo dire no quelli dell'ordotensio dell'orientio che non sono dei satanisti poi il satanismo classico sappiamo che è una significa credere nella nei dogmi cristiani e scegliere satana invece che Dio Gesù Cristo eccetera però si cioè porta a quello porta a quello comunque ha una visione del mondo nella quale magari ci sono dei limiti interiori una formazione interiore molto forte eccetera però all'esterno vince il più forte c'è possibilità che un'elite governi cioè un po' tutti questi movimenti sono molto iniziati porta a quella a quella visione a quella appunto a quello sdoganamento di argomenti satanici di cui abbiamo parlato nel video su tutto l'occulto nei prodotti serie televisive film eccetera libri dove questo questo argomento viene volgarizzato anche volgarizzato nel senso che deve andare deve diventare popolare deve diventare popolare e forse far credere che sia innocuo mentre invece sappiamo che insomma non si gioca con quelle cose e invece abbiamo visto ci sono anche i libri da colorare o addirittura i libri per bambini con i sigilli dei demoni quindi questo è secondo me è servito ad arrivare un po' a quello sì per esempio io ho finito di vedere una serie brutta insomma però per ragazzi consigliata dai 12 anni ai 16 anni che si chiama mi sembra gli irregolari dove si che si svolge praticamente in questo periodo in Inghilterra e dove ci sono tutti i personaggi della Golden Dawn c'è Crowley che è un simpaticone c'è ci sono c'è si riconosce praticamente Yates perché ha il monocolo e c'è un Ipsissimus e Shallow Combs diventa un occultista quindi c'è un rovesciamento completo anche del personaggio ora io ovviamente quando parlo di queste cose mi scuso nel senso che è ovvio che sono argomenti molto articolati molto frastagliati che portano a molte cose e le imprecisioni o le le cose non dette sono molte però è un modo per cominciare come ci siamo detti tante altre volte è un'introduzione a con con ecco l'imperfezione umana che sta dentro un'ora e poi ci sono i testi ai quali uno può fare riferimento per come sempre per approfondimento esatto esatto allora per chiudere diciamo che qual è stato poi il ruolo storico a Golden Dawn probabilmente è stato quello di dare la stura e di lanciare nel mondo sia della politica che dei servizi segreti che della magia Alester Crowley come ha detto Israele Regardi l'ha detto lui poi il suo segretario bene allora abbiamo messo un altro un altro tassello come al solito nel nostro mosaico e naturalmente lasciamo spazio ai nostri amici per commenti richieste di approfondimenti e quant'altro e noi ci vediamo al prossimo incontro va benissimo ciao ciao Mario ciao ciao